Finalmente, dopo otto anni di abbandono, ripartiranno i lavori nel palazzo di Via di Gello, rimasto incompiuto dopo il fallimento delle ditte costruttrici. È stato infatti acquistato all'asta da investire SGR-SPA il lotto secondo del piano dell'utilizzazione Gello, che sorge accanto ai due palazzi già realizzati dalla società e destinati all'affitto a canone agevolato. L'acquisto è avvenuto in accordo con il Comune di Prato, proprietario del terreno. In sostanza, Investire, società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare e Fondo Housing Toscano, subentra la cooperativa AbitCoop e alla cooperativa Edificatrice L'amicizia, entrambe in stato di liquidazione, nella convenzione stipulata con il Comune di Prato nel dicembre 2012 per la realizzazione di 22 alloggi da concedere in locazione a condizioni agevolate come i 72 delle palazzine vicine già consegnati. L'accordo per la costruzione è stato inoltre oggetto di un contributo a fondo perduto Stato-Regione Toscana di oltre un milione di euro da erogare in quattro scaioni tenuto conto dell'avanzamento dei lavori. L'investimento per l'acquisto dell'immobile per il completamento è di oltre 3 milioni di euro. L'obiettivo è concludere i lavori entro l'estate del prossimo anno. Oltre a eliminare lo scheletro di cemento e mattoni, che contribuiva a dare un'immagine degradata della zona ed era spesso rifugio di sbandati, l'intervento darà una risposta abitativa ai cittadini che non rientrano nelle fasce di reddito per le case popolari ma che non possono permettersi neanche il libero mercato. Grazie alla collaborazione con il Fondo Housing Toscano diamo una duplice risposta, ha affermato il sindaco Matteo Biffoni. Si amplia il numero di abitazioni a canone calmirato, destinate in particolare per la cosiddetta fascia grigia, e si risolve un problema annoso di decoro urbano. Per anni l'immobile di proprietà privata è rimasto in stato di abbandono. Adesso andrà a completare un'area residenziale di social housing di alto livello qualitativo, uno spazio proprio alle spalle del Parco della Liberazione e della Pace, dove insistono anche spazi comuni e di servizio che in futuro potrebbero essere ulteriormente ampliati.